eccoci qua con questa improvvisazione di questo meraviglioso cielo azzurro è una cosa bellissima la neve il cielo coi colori naturali sono cose che capitano ogni tanto ne approfitto con questo brevissimo video perché sono ancora frastornato da ancora chi posta determinati commenti chi posta i credo di tutti di tutte le religioni veramente le religioni potete anche lasciare il canale sono state inventate dall'uomo non certo dal creatore o da quello che si che vi spacciano da creatore ci hanno mentito su tutto sulla storia ci hanno fatto credere che si va nello spazio che esistono i missili che superano quella che può essere la cupola siamo all'interno di una prigione se vogliamo dire così forse ce lasciamo ce la lasciamo scelta non lo so potrei essere io aveva scelto questa prigione non lo so le fette davanti agli occhi ce li hanno posti fin da piccoli con l'insegnamento obbligatorio che prosegue a tutto spiano sapete che adesso ci saranno i supplenti che saranno le intelligenze artificiali vi insegnano solo delle cazzate a scuola ragazzi veramente non vi insegnano come sopravvivere non vi insegnano come farvi da mangiare non vi insegnano come coltivare quello che cuciniamo quello che produciamo che mangiamo tutto lo stanno avvelenando per cosa non si sa ci hanno fatto credere anche a delle fandonie pazzesche che riguardano la salute perché la salute c'è nella natura l'hanno rubata tanti 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 anni fa ce la stanno portando via c'è solo la parte economica che tiene in mano a questi disgraziati di delinquenti la capacità di sottomettersi col credo nel denaro certo che il denaro serve per pagare le bollette certo ma se tutti smettono di pagarle è finita non sto facendo del proselitismo ma la realtà è che siamo lontani dalla realtà ciao state bene buona giornata rivedetevi il cielo che è molto bello